In questo momento c'è una rinascita del nazionalismo paurosa e tra il nazionalismo e il razzismo il passo è molto breve. Io vedo che c'è quella propaganda sottile di prodotto italiano, questo italiano, quindi come se in Italia si facesse solo cose buone. Quindi non viene considerato praticamente il resto del mondo. E ognuno ha la propria storia. Ricordiamoci che quando in Italia ancora si usciva dalle caverne i greci già coltivavano l'ulivo. Quindi la conoscenza di quello che succede nelle altre parti del mondo è fondamentale. Le culture sono universali, l'umanità è una sola. Gli uomini sono uguali sotto tutte le parti del mondo, hanno tutte le stesse aspirazioni, possono cambiare gli usi, i costumi, le abitudini, però questo non è fondamentale. La razza non esiste, la razza è umana all. Ci sono varie etnie, vari tipi. E un'altra cosa, per conto mio, è importante, quello di imparare a fare qualcosa, avere un hobby, anche imparare a lavorare con le mani, perché quello che uno sa o sa fare, nessuno glielo può togliere. Se sa cambiare la catena alla bicicletta o se conosce una lingua straniera, qualsiasi cosa succeda, lui saprà sempre fare qualcosa. Quando lavoravo, chiedevo ai giovani aspiranti che volevano venire a lavorare, una delle mie domande era proprio, hai qualche hobby? Se mi diceva di no, ecco, ci restavo male, perché qualcosa che fa piacere uno lo deve avere. Possono essere gli hobby anche più strani, però quello che uno sa, torno a dire, nessuno glielo può togliere, sia di materiale sia di mentale. E' il messaggio che vorrei dare ai giovani. Imparate, non dico studiate, ho detto imparate. Qualsiasi cosa che impariate va bene, però imparate.